Buongiorno signori, questa mattina siamo precari in giro per la città, precari studenti, ricercatori, universitari, precari di tutti i mestieri. Saremo in questa città da oggi fino a domenica perché abbiamo organizzato Precaria, il festival metropolitano della precarietà dei giovani e meno giovani precari. Precaria è un festival sul precariato metropolitano che si terrà dal 29 al 1 ottobre al Maschio Angioino, tra il Maschio Angioino e il Palazzo di Architettura, il Palazzo Gravina, a Via Monte Oliveto. Le notizie che andiamo portando in giro per la città per invitarvi al festival di Precaria, festival sul precariato metropolitano, sono varie e bellissime. La notizia del giorno è che al CNR nazionale ci sono 7.000 ricercatori, circa 2.500 sono precari. I nostri migliori cervelli precari e sottopagati, signori, quindi abbiamo anche capito perché il nostro bossi ha un stipendio e un posto fisso, signori. Il ministro Tremonti dice che i pensionati fanno rialzare lo sprid e destabilizzano l'economia. Tremonti invita tutti i sessantenni dotati di un minimo di senso civico a compiere l'estremo gesto, attaccarsi alla canna del gas per la salvezza della patria e la pace delle banche. Berlusconi ha dichiarato di aver dato 60.000 euro a rubi, 60.000 euro a rubi, mentre noi precari ci moriamo di fame per comprare un depilatore laser. Tutti i presidenti del Consiglio di questo mondo si occupano del PIL, mentre il nostro si occupa del DEPIL. È bravo il nostro Presidente del Consiglio. L'ultima notizia è questa e il Parlamento hanno appena approvato la grande manovra economica per uscire dalla crisi, detta manovra tampone. Ma noi però abbiamo capito il tampone dove va a finire. Signori e signori, se tutto questo vi fa venire il mal di pancia, se tutto questo vi fa venire il mal di testa per la rabbia, se la vita precaria non vi piace, abbiamo una medicina per voi precaria, antisettico, antigovernativo, antidepressivo, aggregante. e vitaminico della collettività debilitata dal debito. Precaria, una compressa al giorno, dal 29 al 1 ottobre. Precaria, dal 29 settembre al 1 ottobre al maschio angioino. Grazie! Grazie!